sì certo sono molto molto contento era una buona giornata per me per la squadra sì penso sono sono molto molto felice oggi sì hai ragione penso abbiamo fatto tre gol oggi due gol di Tedeschi e anche anche che dire faccio un gol c'è perfetto oggi classifica abbiamo i sei punti in avanti penso esatta buona giornata Douglas fa un bel cross in questa situazione era molto semplice per me per fare faccio un gol con la testa in questa situazione importante ma molto semplice veramente molto molto importante abbiamo vinceremo in questa partita dopo oggi abbiamo bisogno bisogna anche anche tre punti contro cotrone cotrona è allora